Perché vip, la parola vip, che vuol dire? Me ne spieghi tu? Very important person, strontz. Sanno a preghi di cipommiche, tipo una partita di termine, di cipommiche, cipommiche. Questi sono ragazzi stressati, capite? Li dobbiamo capire, fanno una vita di stress, capite? Se mangi le certe bistecche a cucina, dici che ne mangi, ne mangi, ma loro ne mangi e le murature nostre, i nostri operai che stanno a spazio, mangi. Che dicono sempre Stati Adriati, ma si chiama Giovanni Stati, Giovanni Cornacchi. Però è ancora anche Stati Adriati. E va bene, ma siamo sopra Adriati, lasci perdere, ma Adriati. Ma si chiama Giovanni Cornacchi e Baci, che facevi? Devo 14 numeri. Lo capite, il Dundì! Ci stanno, dicono, gli uccendi padule, quindi va a reagire ad una certa altezza. Se ti abbesse dei colpi, ti arriva, ma che te ne corri? Dalci, che da tre. Se ti abbesse dei colpi, ti arrivi, ti arrivi. E, se ti abbesse dei colpi. Se ti abbesse dei colpi, ti arrivi un'altra parte. Grazie a tutti